Il treno alta, velocità, velocità rossa, 94, 0,75, in treno di Davia, e l'ora 7,25, proveniente da Manoli Centrale, ed in Provenezia Santa Lucia, e in arrivo al binario 2. Attenzione, a puntata si fa la via gialla, che rosse dalla 1,94, in testa treno, dalla 5 alla 7,5 treno, e la non è la 1,5 da 3. Attacca, di Carlo, il treno alta, 7,20, 30, 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 30. Pericham di centrale, partirai dal binario 29, volore di Carlo, il programma di Davia, e l'ora 6,30, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.